buongiorno ragazzi semistrani.it carlo martini oggi vi faccio vedere il pomodoro di santorini come vedete molto bellino una pianta che sviluppa fuoco e sarebbe un pomodoro vulcanico che nasce nell'isola greca della mitica santorini guardate belli questi pomodori gustosi un po come dire salati ecco qua faccio vedere un po intorno c'ho quattro piante il pomodoro di santorini ecco questo è marcio pomodoro vulcanico di santorini un pomodoro greco se volete dovete andare su semistrani.it arrivederci